Torino City Lab è una delle politiche più importanti del nostro territorio che mira mettere l'innovazione al centro dello sviluppo della nostra città costruire un ecosistema di aziende ma una rete che fa sì che l'innovazione possa essere a servizio dei cittadini quindi importanti iniziative come quella di oggi in cui si fa il punto della situazione rispetto ai risultati raggiunti gli obiettivi dei prossimi anni e un grazie ovviamente a chi ha partecipato e tutti coloro che hanno deciso di entrare nella grande famiglia di Torino City Lab.